allora facciamo un po di chiarezza i cani non possono prendere il virus il coronavirus e non possono attaccarlo quindi se avete il cane non avete problemi potete sbassucchiarvela abbracciarvelo tranquillamente senza problemi l'unica accortezza è per tutte le persone che anche con me amica di in casa ci vivono vanno a far la passeggiata tornano l'abbracciano tranquillamente lo carezzano senza problemi perché problemi non ce ne sono in questo momento il problema ci potrebbe essere se voi andate in un bar o in un ristorante col vostro cane che abita in casa perché se andate in tutti questi posti se andate a farla passate la passeggiata tranquillamente all'aperto anche all'aria cani piuttosto che in posti all'aperto senza nessun problema perché problemi non ce ne sono state tranquilli che se voi avete un problema o loro hanno un problema non ve lo passate perché il cane non può contagiare l'uomo e l'uomo non può contagiare il cane questo è andato di fatto e ci si può mettere la mano sul fuoco in questo caso può fare da tramite da veicolo se voi andate in un bar c'è una persona infetta voi bevete il caffè tranquillamente questa persona sul fa potrebbe fare magari potrebbe avercelo sotto i piedi perché magari mangia le piccole della prioche che è caduta a quella persona o a qualcun altro magari la persona che bello che carino che qua che la intanto si abbassa la carezza la distanza è ravvicinata potrebbe può molto facilmente depositare le particelle sul pelo del cane non lo contagia ma cosa succede che magari dopo il caffè al bar o ristorante una piazza in un posto in cui è frequentato da gente e c'è questa situazione che bravo che bello che carino che faccio una carezza e potrebbe depositare le particelle sul pelo poi arrivate a casa tranquillamente slacciate il guinzaglio il collare la pettorina quello che è gli fate una bella carezza in quel momento lì subito appena arrivate a casa o anche magari fate arrivate a casa vi lavate le mani poi gli fate un'altra carezza che ma in quel momento lì prendete dal pelo passa la mano quindi cosa fate vi è rilevate le mani si uno può anche lavarsi le mani ma per evitare in questo momento il consiglio che posso darvi è fate le passeggiate all'aria aperta nei campi nelle calere nei posti nelle sgambatoi nelle nei campi d'agility nei campi di nella recane in tutti quei posti in cui c'è spazio non ci sono altre persone sopra il vostro cane perché sicuramente non lo sono non hanno non c'è il problema ma volete evitarlo ecco questo modo sicuro per evitarlo scampagnate in mezzo al verde col vostro cane e se avete domande ok io posso io non sono capace di fare video sono imbarazzato non è il mio lavoro far dei video se avete delle domande se avete dei dubbi e abitate in zone a rischio fatemi uno squillo almeno le chiariamo tutti senza problemi buona serata e buone passeggiate allevamento zeus questo di carlo ciao